Il 12 marzo 2015, Clare Brothers, una delle più importanti, storiche e prestigiose aziende produttrici di sound reinforcement a livello mondiale, ha annunciato la sua partnership con Prase Engineering per l'Italia. Dopo i primi mesi di organizzazione logistica e della rete di vendita, Prase ha invitato presso la sua sede alcuni tra i più importanti service in Italia per una due giorni di presentazione dei prodotti e di formazione di base. Roy Clare, storico fondatore dell'azienda, ha sorpreso tutti presentandosi al convegno introduttivo per poi trascorrere come ospite a recezione i due giorni di meeting insieme ai partecipanti accreditati. Dopo una prima giornata dedicata a seminari tecnici, la seconda ha permesso a tutti i partecipanti di provare direttamente gli impianti in un contesto ottimale. In un grande campo aperto, inserito nella darsena del piave, i tecnici della Prase Engineering hanno predisposto un palco provvisto di due torri layer attrezzate con due configurazioni di impianto, al fine di dare la possibilità ai fonici e ai service intervenuti di poter effettuare test e valutazioni su diversi prodotti installati. Sul palco, un trio composto da chitarra, voce, basso e batteria ha permesso di sfruttare al massimo la giornata di prove ripetendo richieste a decine di soundcheck sempre diversi in base alle esigenze dei tecnici che via via si succedevano alla console di missaggio. La giornata si chiude infine con una dimostrazione pratica sullo smontaggio degli impianti, dove i tecnici della Prase Engineering hanno posto l'accento sulla velocità e praticità di disallestimento dei sistemi audio installati per i test. Dopo queste due giorni all'aperto, l'appuntamento successivo ha visto la presentazione degli stessi sistemi in configurazione indoor all'interno di un palasport, completando così l'overview tecnica e pratica su questa famiglia di sistemi Clare Brothers. Grazie per la visione!